Sera darò il regalo di compleanno ad Alice, non vi do spoiler ma penso sia il regalo più bello che abbia mai fatto ad una mia amica Siccome mi ha preso il culo, detto proprio così, ho ordinato delle cose per diciamo abbellire il suo regalo Grazie mille, buona giornata, buona serata Il regalo è qui dentro, solo che questa busta fa un attimo caga Quindi ho preso delle penne, dei giotto e dei post-it Quello che voglio fare è colorare tutta la busta di un colore, ci metterò 800.000 anni ma Per ali questo ed altro Ho scelto il verde perché è il colore preferito di ali Ma penso che un bambino di due anni avrebbe colorato molto meglio questa busta rispetto a me L'importante è il pensiero, giusto? Giusto, sì Fino di colorare la mia busta, mi sento tipo un attacco Adesso prenderò un post-it Lo appiccichiamo sulla busta Magari dritto Jasmine Vita storta, post-it storto E ci scriviamo un regalo speciale per una persona speciale Puntini, 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 perché a casa Spencer ci piace Qui dentro c'è il regalo, avete già uno spoiler Ta-daaa Allora la prepara perché sennò faccio il ritardo Tieni Notare la lettera che ha ricolorato da capo Colorato tutto io Vanni muchacha by Jasmine Zanga Nooo No vabbè No, tra feria È impazzito No, è finto Guarda, soprattutto per bellezza te l'ho messo lì perché mi piaceva Andiamo a Lisbona Woohoo Woohoo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti